Mi piace che la festa della Repubblica possa far conoscere anche diverse parti della città. In particolare è stata quest'oggi, quest'anno, qui al Giardini Mare Perita, che rappresentano anche un quartiere che noi teniamo molto in attenzione perché ci sono state delle situazioni poco piacevoli e quindi mi sento di dover far partecipare il primo luogo i cittadini di questo quartiere proprio per dimostrazione che già lo facciamo perché gli interventi sono stati fatti e sono continui e che anche tutte le istituzioni siano qua in questi giorni.